Oggi parliamo di Galleo Gallei, nato a Pisa nel 1564. Iniziò nel 1580 a studiare medicina presso l'Università della Città. Nel 1583 si specializza in matematica. Nel 1585 abbiamo la scoperta dell'isocronismo delle oscillazioni del pendolo, secondo cui in un pendolo le oscillazioni si svolgono tutte nello stesso tempo, a prescindere dalla loro ampiezza. Dal 1589 insegnò a Pisa e nel 1592 venne chiamato all'Università di Padova, dove insegnò fino al 1610. Nel 1593 inventò la macchina per portare l'acqua a livelli più alti, utilizzata a Venezia e la creò nel periodo Padovano. Nel 1604, in seguito all'apparizione dei cieli europei nella supernova, iniziò a costruire e a perfezionare il cannocchiale ed inoltre a redigere i primi oroscopi a pagamento. Per tutto il 1610 acquisì informazioni sulla superficie della Luna, studiò la Via Lattea, un insieme di stelle lontanissime che allargavano i confini dell'universo e scoprì quattro maggiori satelliti di giove, oltre a studiare il sole e a comprendere la presenza di macchie in movimento su quest'ultimo. Successivamente, nel 1611, la Chiesa e il Santo Uffizio iniziarono a protestare contro la politica di tipo scientifico adottata da Galileo Galilei. Infatti, Galileo aveva aderito all'idea di Keplero sui movimenti dei pianeti, tra cui quella in base alla quale la Terra compiva su se stessa un moto di rotazione, e anche alla teoria eliocentrica rappresentata dall'astronomo Nicolò Copernico, per cui non la Terra, ma il Sole si trovava al centro del sistema con i pianeti che li giravano attorno con un moto di rivoluzione. A questo punto, nel 1616, i teologi della Chiesa di Roma affermarono che le re copernicane erano eretiche, perché contraddicevano i passi delle sacre scritture e le opinioni dei padri della Chiesa. Dopo aver espresso il suo pensiero nelle lettere copernicane, tra il 1613 e il 1616 e nel 1623, nel Saggiatore, dedicato allo studio delle comete, si occupò di spiegare come la Bibbia avesse carattere morale salvifico, ma non scientifico. Le discussioni di carattere scientifico dovevano essere basate sulla creazione di un'ipotesi che nasceva dalla teoria e che trovava conferma nell'osservazione diretta della realtà naturale, attraverso delle dimostrazioni e delle esperienze, quindi dimostrabili. I principi elaborati da Galleo erano quello dell'inerzia, secondo cui un corpo, se non disturbato, conserva in modo indefinito il proprio moto, e della relatività del movimento. Quindi è impossibile stabilire sulla base di esperienze e osservazioni compiute testando all'interno di un sistema e senza punti di riferimento esterni, se il sistema si afferma o se si muova con un moto rettilineo uniforme. Se ci troviamo su una nave che non compie movimenti bruschi e si muove lungo una linea retta senza avere punti di riferimento, non riusciamo a capire se ci muoviamo oppure no. Nel 1633 arrivò la chiamata dell'inquisizione e iniziò il processo durante il quale Galleo provò a spiegare le sue ragioni alla Chiesa. Il 22 giugno 1633 compiò una biura delle sue teorie, sconfessando le scoperte fatte e anche la teoria copernicana. Venne condannato all'esilio ad Arcetri. Dopo la biura, nel 1638, fu pubblicato nei Paesi Bassi il trattato discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, l'opera di Galleo più importante. Galleo morì nel 1642. Con le sue scoperte cambiò il modo di fare scienza e il mondo intero e anche lo stesso Papa Giovanni Paolo II, il 31 ottobre del 1992, riconobbe gli errori commessi dalla Chiesa nei confronti di Galleo davanti alla sessione plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze.